Putin privatizza il 19,5% di Rosneft per 10 miliardi e 500 milioni di euro. La quota del gigante del petrolio statale russo è stata venduta a un consorzio composto dalla multinazionale anglo-svizzera Glencore e dal fondo sovrano del Qatar. Un'operazione esclusivamente commerciale, afferma il portavoce del Cremlino, e non politica. Spero che l'arrivo di Glencore e Qatar migliori la trasparenza della società. Allo stesso tempo la quota di controllo della società rimane nelle mani dello Stato russo, oltre il 50%. Infatti adesso la Rosneft appartiene a investitori privati per il 49%. Sarà intesa San Paolo a fornire al consorzio una parte consistente dei fondi necessari all'acquisto. Nel frattempo i petrolili russi rispondono così alle obiezioni della Casa Bianca sulla violazione delle sanzioni. Le sanzioni dell'Unione Europea non sono un ostacolo perché la vendita comprende vecchie azioni, azioni già in circolazione sul mercato e quindi non colpite da sanzioni. L'accordo arriva alcuni giorni dopo che l'OPEC ha raggiunto l'intesa per il taglio della produzione di greggio di circa 1 milione e 200 mila barili, una mossa che farà risalire il prezzo del petrolio. Grazie.